Ciao amici, oggi è un nuovo giorno, un nuovo allenamento e una nuova constatazione della Jill. Allora, è molto bello il sapere che il trampolino ti fa bruciare più calorie del lavoro comparativo a terra. Quando lavori su un trampolino, stai bruciando anche fino a mille calorie a loro. Ovviamente dipende dal sesso, dal peso, dall'altezza, dall'età. Però la cosa bella è che si può bruciare molto più calorie con metà della fatica di un lavoro a terra. E così andiamo ad allenarci, giocandoci come se fossimo bambini, però ottenendo grandissimi risultati a bruciagrassi, grazie a lui e il trampolino. Per oggi voglio veramente farvi fare un bel lavoro, bruciagrassi. Ok, così cominciamo a spingere verso basso. Ricordate che i piedi rimangono principalmente piatti, ok? Sono piatti, stiamo impingendo verso basso. Ok, spingo, spingo. Ok, salta un po', così siamo scaviti. Scalto, scalto, ancora, 4, 3, 2, spingo verso basso, spingo, spingo. E salto, va, tira su. Ancora, 8. Spingo giù, 8, 8. Salto, salto, 8. E spingo giù, 8, vai, vai. Salto su, salto, piccolo salto, dai dai. Ancora due volte, andiamo, 8. Spingo, spingo, salto, salto. Vai. One more time, andiamo, 8. Spingo, spingo, salto. Ok, come sta andando? Bene, apriamo il jumping jack. Apro. E spingo giù con le braccia. Spingo. Ancora 8, 8. E chiudo, 8. Ancora. Apro, 4. Chiudo, 4. Ancora, apro, spingo con le gambe. Usa le gambe. Dammi in due temps. Due. Due. Ok, anche piccoli passi, non dovete esagerare. Dammi in singoli. Apro, chiudo. Yeah, yeah. Apro, chiudo. Ok, ripariamo. Lo sci di fondo. Siete pronti? Porto le gambe destra e davanti, ok? I piedi si cambiano insieme. Dammi in un altro, 8. Ok? Adesso si cambiano, ora. Insieme, ok? Proprio su due binari. Continui, 8. Ok? Siete tranquilli, allora. Cambiamo, andiamo. 8, vai. Ancora 8, vai. Così cominciamo a crescere insieme con il trampolino, le gill. Ok? 8, ok. Adesso solo 8 per la volta, ok? 8, spingo. E cambia la gamba. 8, vai, vai, vai. Questo si chiama sci di fondo, ancora. 8, vai. Spingo, 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 spingo. 8. Ok. 4 per più 4, ok? 4. Vai, vai. 4. Voglio farvi divertire un po' di più oggi, ok? Bruciamo grazie, ma divertiamoci anche. Ancora. Vai. Ancora. Vai, vai, vai. Ok. Singoli, piccoli. Fammi i piccoli. Piccoli passi. Piccoli passi. Ancora. Ancora. 8, 8, 7, 6, 5, 4, ok. Apriamo qua. Dammi due pugni in su, poi sinistra in su. E in giù. E in giù. Ancora. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Andiamo al ritmo. Siamo pronti? Facciamo. Piccoli giù. 2, giù. Dai, dai, dai. Dentra. Sinistra. Giù. Giù. Ancora. Doppio. Doppio. Giù. Giù. Ottimi doppi. Siamo pronti? Proviamo singoli, ma piccolini, piccolini. Su e giù. E giù e giù. Su e giù. Le gambe rimangono in movimento. Rimangono in movimento. Ancora. 4, ancora. 3, ancora. Ancora. 2, ancora. Ritorniamo doppi. Siamo pronti? 2, 2, 2. Singoli. Su e giù. E giù e giù. Torniamo a doppio. 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 Singoli. 2 volte. Ancora 1. Bravissimi, ragazzi. Ok. Scarico. 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 Yeah. Ok. Adesso voglio fare una cosa con lo scarico. Facciamo il giro completo. Giriamo. Gire, gire, braccia larghe per la stabilità. 4, 3, 3, ok. Ancora 8. 8 frontali. E giriamo. Yeah. Come sta andando, ragazzi? Facciamo ancora una, un'altra. Facciamo più verso la destra. Poi facciamo tutto da capo. Siamo. Giro. Giro. Ricordate i pugni? In su, doppio. 2, 2, 2. Singolo, singolo. Su. Ora, su. Di nuovo. 2, 2, 2. Singoli due volte. Su e su. Giù e giù. Ok. Scarico sempre per 8. 8. Sci gira. Braccia larghe. 8, 8. 8. E si, gira. Vai. Proviamo a sci di fondo. Ve lo sentite? Ok. 8, tengo qua. 8. Cambio 8. Ok. Vai, vai, vai. Spingo verso il basso. Grandi feriti. Dai. Piedi principalmente piatti. Ok. Ve lo faccio in 4 più 4. Facciamo. 4, 4, ancora 4, 4, e 4. Torniamo su quel scarico che voi conoscete bene. Bello salto semplice. Ok? Ok. Ritorniamo su 4. Destra, 4 destra, 4 sinistra, ancora. 4 destra, 4 sinistra, e scarico. E venite con me verso destra. Beh, solo qua. Non è completo il giro. Rimango qua. Ok? E mi date di nuovo con questa gamba destra così. 4. Cambio. 4. Ancora. 4. Ancora. 4. E solo saltando ci vedremo 180 dall'alto parte. Venite con me? Ci siamo qua. Rimango qua. Occhio. 4 ancora. Destra 4. Sinistra 4 ancora. 4. 4. Braccio largo. E giriamo. 180. Bravi. Rimango qua. Rimango qua, ok? Di nuovo. 4 vai. 4. 4. Ancora 2 volte. 4. E 4. Braccio larghi. Torniamo centro. Come sta andando? Grande, no? Ok. Tutto da capo. 3. 2. 2 pugni su. E 2. 2. 2. Singolo. Su e su. E giù e giù. Su e su. E 2 e giù. E 2 e su. 2 e su. 2 e giù. 2 e giù. Il singolo è 2 volte. Ok. Semplici scarico centro. 8. E si gira. Tutto, tutto, tutto. Braccio larghe. 8 ancora. 8. Yeah. Uso le gambe per girare. Gira. Facciamo ancora questo. 8. Spingo con le gambe. Gira, gira. 1, 2. 8. Yeah. Stai facendo un grande lavoro. Giriamo. 8. Ok. Scendi fondo. 4. 4 volte. 3 ancora. 4. Aha. In totale. E giriamo. Semplicemente saltando. Fermo qua. Fermo qua. 4. 3. 2. Riparto. 4 con la destra. Per sinistra. Per destra ancora. E andiamo. Braccio larghe. 180. Verso di me. Verso proprio lo schermo. Di nuovo a destra. Ok. 4. Poi veramente che ti hai fatto la tua gambe non importa. L'importante è che vi state saltando. Che salto è quello che vi fa bruciare tantissime cavorie. Ok. 4. 3. 2. Ancora 4. 4. E 4. Ancora 4. 4. 4. Spermiamo al centro. Vai. Come sta andando ragazzi? Come sta andando? Di spiaggirlo. Ok. Ok. Occhio. Braccio qua. 1. 2. E centro. Ok. E 1. 2. Centro. Me la faccio ancora. 1. 2. Centro. Ok. Sinistra. Ok. Facciamo. Ritmo. Destra. 2. Sinistra. 2. Destra. 2. Sinistra. 2. Continui. Destra. Hop it up. Usa la braccia. Dai dai dai. Dobbiamo tonificare le braccia. Ok. Rimaniamo qua. E. Tamburo. Tamburo. Dai dai. Tamburo. Usa la braccia. Senti come si sta attivando i muscoli della braccia. Bello no? 4. Facciamo tutto da capo fino qua. 2 su. 2. 2. 2. 2. Singolo. Singolo. Su. Giù. Su. Giù. Ancora. 2. 2. 2. 2. 2 volte singoli. Vai. 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 E scarico. 8. Le gambe. Le gambe. Le gambe. E gira. 8. Gira. Un'altra gambe. Vai. Gira. 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 Di nuovo. 8. 8. Vai. Gira. Ancora 8. 8. Vai. Vai. E gira. 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 Scio 4. 4. E 3. Ancora 2 volte. E gira. Un quarto. Ok? Fermi qua. Fermi qua. Usa le gambe. 4. 3. Riparto con le gambe destra. 4. 4. 4. Ancora 2 volte. 4. E 4. Giri di qua. Bracce larghe. Forza con le gambe. 4. 3. 2. Ancora. 4. Vai. Vai. 4. 4. Ancora. 4. Bracce larghe. Gira. Indietro. Vai. Andiamo. In gira. Gira. 4. 3. 2. Ancora 4. 4. 1. 4. Ancora. 4. Cora. 4. Torniamo in centro. Aha. Fingo. Spingo. Usa le gambe. Usa le gambe. 4. 3. 2. Andiamo con su. 2. 2. Giù. Giù. 2. Giù. Giù. 2. Giù. E. 1. 1. Vai. 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 Ancora 2. 2. Up down. 2. 2. 2. Guardate. 2. 5. 1. 2. 3. Etc. 7. Gira, 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 otto, va, gira, 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 otto, ora, sia, 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 sì, giriamo, scia, quattro, ancora, otto, e jump, ok, solo un quarto, rimango qua, ma uso le gambe, con questo basso, con questo basso, quattro ancora, quattro, vai, quattro, costa, quattro, quattro, giriamo, gira, 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 4, 3, 2, 4, ancora, quattro, 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 giriamo, braccia larghe, giri, 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 ancora, quattro, 3, 2, oltre 4, 4, 4, 4, torno al centro, sì, 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 eccolo, spingo con le gambe, 4, 3, preparo le braccia, andiamo, 2, 2, ancora, 2, vai, vai, 2, da un muro, vai, ancora, usa le braccia, 4, 3, 2, ancora 2, 2, 2, vai, vai, 2, vai, vai, 2, vai, vai, 2, ancora, 8, 7, usa le braccia, 4, 3, 2, è eccellente, bravissimi, avete fatto un allenamento geniale, ok, complimenti, davvero, come ti senti? Ti senti già più contento con te stessa? Sono contenta perché ti stai ottenendo questo risultato che noi sappiamo che tu lo vuoi, io lo voglio, lo vogliamo tutti quanti, ok, di nuovo, congratulati, ok, congratularti, ok, darti le congratulazioni perché quello che stai facendo è veramente importante per tua autostima, per tuo autorispetto, per tuo corpo, per la tua salute, insomma, per il sorriso. Ricordati che tutti quelli che sono intorno a te, che ti amano, che ti vogliono bene, che veramente ti adorano, vogliono la tua felicità, la tua salute e di conseguenza la tua forma fisica e con la Jill riotterremo tutto, promesso, ok? L'unica cosa che chiedo da te è la costanza. Tutti i santi giorni ci dobbiamo vedere, ci dobbiamo allenare, ci dobbiamo impegnare perché con la costanza tutto è possibile, ok? Così, ditelo con me, mi amo e mi accetto come sono, 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 ok? Dilo, dilo, dilo per la Jill, lo so che non l'hai detto, uno, due, tre, mi amo e mi accetto come sono. Ti aspetto alla prossima allenamento, mi dico e ricordati quanto sei importante, ricordati quanto sei unica, è unico, è raro, è rara, insomma, perfetta. Un bacio dalla Jill, ti aspetto alla prossima allenamento, insieme.